Novena alla Vergine della Rivelazione Ottavo giorno Canta nella gioia, leggi la verità, e salmeggia nel dolore, prega nell'allegria e nelle pene, prega sempre, la preghiera e l'ossigeno dello spirito. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore, hai ascoltato le parole della mia bocca. A Te voglio cantare davanti agli angeli. Mi prostro verso il Tuo Tempio Santo. Rendo grazie al Tuo nome per la Tua fedeltà e la Tua misericordia. Hai reso la Tua promessa più grande di ogni fama. Nel giorno in cui Ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza. Ralegratevi nel Signore, sempre. Ve lo ripeto ancora. Ralegratevi. Meditazione C'è una grande gioia nel seguire il Signore. Se siamo con Cristo, allora nulla può abaterci, e sappiamo che Egli renderà tutto a nostro favore. Tuttavia, sia nel dolore che nella gioia possiamo gioire. La Vergine della Rivelazione ci rivela il vero segreto della gioia cristiana. La relazione con Cristo nella preghiera. Quando respiriamo l'ossigeno dell'intima amicizia con Cristo, siamo in grado di condividere le nostre difficoltà e prove con Lui. In tal modo, nulla sarà insormontabile, ma sarà causa di gioia. Il vero segreto della gioia cristiana è esattamente nell'intima presenza del Signore nelle nostre vite, ed è per questo che Sua Madre ci incoraggia sempre a pregare. Insegnamento della Chiesa La preghiera è la vita del cuore nuovo. Deve animarci in ogni momento. Noi invece dimentichiamo con Lui che è la nostra vita e il nostro tutto. Per questo i padri della vita spirituale, nella tradizione del Deuteronomio e dei profeti, insistono sulla preghiera come ricordo di Dio, risveglio frequente della memoria del cuore. È necessario ricordarsi di Dio più spesso di quanto si respiri. Supplica alla Vergine della Rivelazione Vergine Santissima della Rivelazione, che sei nella Trinità Divina, degnati ti preghiamo di rivolgere a noi il tuo sguardo misericordioso e benigno. O Maria, Tu che sei la nostra potente Avvocata presso Dio, che con questa terra di peccato ottieni grazie e miracoli per la conversione degli increduli e dei peccatori, fa che otteniamo dal tuo Figlio Gesù con la salvezza dell'anima anche la perfetta salute del corpo e le grazie di cui abbiamo bisogno. Concedi alla Chiesa e dal capo di essa il Romano Pontefice la gioia di vedere la conversione dei suoi nemici, la propagazione del Regno di Dio su tutta la terra, l'unità dei credenti in Cristo, la pace delle nazioni, affinché possiamo meglio amarti e servirti in questa vita e meritare di venire un giorno a goderti e ringraziarti eternamente in cielo. Amen Se ti piace il nostro canale, iscriviti, comenta, metti mi piace o non mi piace, prega con noi e aiutaci a diffondere la preghiera. Grazie 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 Grazie